Nella vita devi fare cose che non ti piacciono per stare bene, è inutile che stiamo a dire sempre va tutto bene, occhio ragazzi, oggi abbiamo anche tipo una guerriglia urbana in sottofondo, questo non è, vediamo se lo sapete, diciamolo insieme, 1, 2, 3, non è un canale da fighetti.